Asl di Salerno in ritardo, divergenza nei dati, rallentamenti nella diffusione dei numeri dei tamponi e nella comunicazione dei casi positivi alle amministrazioni comunali. Denuncia i notevoli ritardi nella segnalazione dei tamponi effettuati anche il sindaco di Pellezzano Francesco Morra alle prese con un incremento di casi positivi nel comune della Valle dell'Irno dove dai dati diffusi dall'Asl domenica risultano 10 persone positive ma da quelli comunicati al sindaco Morra tramite PEC al momento solo 9 e tra loro anche Mario Sposito responsabile della protezione civile di Salerno. Il primo cittadino teme un incremento nelle prossime ore semplicemente perché ai 10 positivi di domenica potrebbero legarsi altri contatti già al momento positivi. Alcuni tamponi sono stati effettuati la settimana scorsa all'incirca mercoledì. La comunicazione che ci giunge è solo di domenica, lunedì e quindi c'è un ritardo sostanziale. Come dicevo poc'anzi alcuni nuclei familiari anche per senso civico comunicano al sindaco direttamente la propria positività dopo averlo fatto anche al medico di base. È importante che ce lo comunicate soprattutto perché ad oggi noi abbiamo comunicato 9 casi positivi che sono quelli che ci vengono comunicati ufficialmente da parte dell'Asl ma ne abbiamo sicuramente almeno altri 5 o 6 che siamo in attesa di ricevere le comunicazioni da parte dell'Asl perché i cittadini ce l'hanno già comunicato ma l'Asl ufficialmente ancora non ci ha richiesto l'emissione delle ordinanze di quarantena obbligatoria. Sindaco, quali sono le condizioni di queste persone affette da Covid? Sono tutte alle cure domiciliari o ci sono ricoveri? No, ci sono alcuni che stanno alle cure domiciliari e tra l'altro sono asintomatici. Alcuni di questi tra l'altro hanno scoperto la propria positività a seguito di screening effettuato sul posto di lavoro. Mentre altri hanno della sintomatologia e di stamattina invece la notizia è che abbiamo anche un residente ricoverato presso l'ospedale da Procida di Salerno. Quindi di fare la massima attenzione perché il virus in queste ore sta riprendendo la forza virale perché molti non hanno una semplice influenza ma tutti i sintomi che si sono manifestati nella prima fase nel mese di marzo si sta manifestando anche in questa fase. L'amministrazione comunale con il supporto della protezione civile comunale e anche della Polizia Municipale sta monitorando tutti i casi e stiamo in stretto contatto anche con l'ASER soprattutto per la ricostruzione della rete dei contatti che hanno avuto coloro che sono risultati positivi e stiamo cercando nel frattempo anche di contenere quello che può essere il contagio sul territorio. Per fortuna che in questa fase le istituzioni scolastiche, le scuole del territorio sono chiuse, alcuni casi di minori che sono risultati positivi non frequentavano le scuole di Pellezzano ma di comuni limitrofi ma nel frattempo comunque stiamo tenendo alta l'attenzione. Una raccomandazione ai cittadini è soprattutto quello a limite di segnalare direttamente agli organi competenti alla Polizia Municipale ma anche a noi direttamente come amministrazione comunale quando si verifica la positività che viene comunicata dall'ASER perché purtroppo c'è un ritardo da parte dell'ASER nel comunicare all'istituzione comune per l'emissione delle ordinanze di quarantena coloro che risultano positivi. Infatti c'è molta confusione, parte un tantam da parte dei cittadini, la cosiddetta caccia alle streghe soprattutto quando l'ASER trasmette i dati ufficiali agli organi di stampa ma non li trasmette direttamente anche ai comuni per l'attivazione di tutte le procedure e dei protocolli. Questo deve essere da monito e soprattutto anche come componente di ANCI nazionale e di ANCI regionale. Abbiamo chiesto al Presidente De Luca, la Task Force regionale, di intervenire in maniera un po' più sinergica, più forte e incisiva anche con l'ASER cercando di collaborare direttamente con i comuni e anche con i volontari di protezione civile affinché ci possa essere una comunicazione unica ma soprattutto uniformata per quanto riguardano i casi di possibilità nella comunicazione esterna. C'è un'altra preoccupazione, l'ASER nei suoi ritardi ritarda anche nell'effettuare i secondi tamponi per confermare la negatività dei pazienti e non si esclude che alcune persone stanche di essere a casa possano magari volontariamente uscire. Sì, questo è un altro ritardo molto grave tra l'altro anche perché c'è anche un problema con i datori di lavoro perché coloro che sono oggetti di quarantena obbligatoria, noi per revocare il provvedimento di quarantena obbligatoria logicamente abbiamo bisogno del referto finale della scheda finale da parte dell'ASER dove si attesta che il residente positivo può ritornare libero e quindi alla vita quotidiana. Su questo c'è un ritardo consistente da parte dell'ASER che preoccupa non poco anche perché i medici di base poi hanno la difficoltà di certificare soprattutto ai datori di lavoro la permanenza in malattia di alcuni soggetti.